andiamo ora a disegnare i muri del piano terra la prima cosa che andremo a fare sarà selezionare lo strumento muro all'interno della barra degli strumenti che trovi sulla sinistra una volta selezionato lo strumento muro puoi vedere che nella parte alta si è attivata una palette dove ti farà vedere una serie di informazioni veloci sullo strumento selezionato questa palette la potrai far scorrere utilizzando la barra che trovi subito sotto oppure posizionandoti all'interno facendo scorrere la rotella del tuo mouse per aprire la finestra settaggi dello strumento basterà o cliccare una volta sul pulsante all'interno della palette delle informazioni oppure andare a fare un doppio clic all'interno dell'icona del muro nella palette degli strumenti il programma andrà ad aprire una finestra dove avrai la possibilità di impostare il muro la prima cosa che andremo a fare adesso prima di andare a impostare lo strumento muro sarà quella di definire il lucido su cui andremo a disegnare il lucido all'interno delle finestre settaggi degli strumenti lo trovi nella parte bassa come puoi vedere in questo caso lo strumento muro ha un lucido che si chiama lucido archicad se io clicco sul menu non abbiamo lucidi all'interno infatti abbiamo solamente il lucido archicad la mancanza di lucidi è una condizione che abbiamo impostato quando abbiamo utilizzato il template di partenza questo mi permette di farti capire ora come andare a gestire lucidi creare lucidi come crearli e come andarli ad utilizzare la prima cosa che adesso andremo a fare sarà andare a creare un lucido per i muri perimetrali dell'edificio e un lucido per i muri interni possiamo chiudere questa finestra e ora dal menu opzioni attributi elemento andiamo a richiamare la voce settaggi lucidi come puoi vedere si è aperta una finestra dove nella parte di destra dove abbiamo l'elenco dei lucidi abbiamo solamente il lucido archicad il lucido archicad è un lucido che non può essere modificato e non può essere né nascosto né bloccato non puoi neanche modificarne il nome andiamo a creare un lucido nuovo per i muri perimetrali basterà fare un click nella parte in alto a destra sul pulsante nuovo nella palette che si apre andiamo inserire il nome muri perimetrali e confermiamo con ok come puoi vedere il lucido viene inserito al di sotto del lucido archicad clicchiamo nuovamente su nuovo e inseriamo il nome del nuovo lucido muri interni confermiamo con ok abbiamo creato due nuovi lucidi i lucidi possono essere nascosti basterà cliccare sull'occhietto quando diventa grigio vuol dire che il contenuto del lucido verrà nascosto all'interno del file se vado a cliccare sull'occhietto il contenuto del lucido verrà bloccato se vado a cliccare sul volume il contenuto del lucido verrà reso trasparente all'interno della finestra 3d poi abbiamo il numero che ci permette di definire le priorità di intersezione nel nostro caso manteniamo sempre il numero 1 poi abbiamo il nome del lucido che può eventualmente essere modificato e un'eventuale estensione una volta creati i due lucidi clicchiamo su ok adesso all'interno della finestra settaggi la prima cosa che andremo a fare sarà selezionare all'interno dell'elenco dei lucidi il lucido muri perimetrali questa operazione ci permette di andare a impostare all'interno della finestra settaggi dello strumento muro il lucido muri perimetrali per tutti i muri che adesso andremo a tracciare quando dovremo tracciare i muri interni dopo aver impostato lo strumento andremo a modificare il lucido